Ben trovati con le nostre interviste di Agenda Politica, oggi ci occupiamo del comune di Battivaglia, del candidato sindaco, parleremo del candidato sindaco Brunello Di Cunzolo che ringraziamo, grazie per aver accolto il nostro invito. Grazie a te, Marco. Giusto un attimo di pazienza, parte la sigla e poi torniamo a parlare di Battivaglia. Di Cunzolo a quanti candidati siamo? Facciamo un po' il punto della situazione perché solo ieri abbiamo appreso la data del voto, che è il 3 e il 4 di ottobre per il primo turno e poi l'eventuale ballottaggio. A Battivaglia forse la campagna elettorale più vivace di tutta la provincia? Ma come le altre, Battivaglia ha sempre avuto 7-8 candidati a sindaco, quindi non credo che ci sia una novità quest'anno. Non so quanti di questi manterranno la candidatura, ma come dire? Non è assolutamente una novità questo affollamento? Beh, insomma, vedremo, tu hai detto una cosa importante, vedremo poi quanti rimarranno in campo. Intanto tu sei in campo con 5 liste, uno schieramento civico che guarda però anche ad un partito del centrodestra che è il nuovo PSI di cui tu fai anche parte, però è ovvio che è una compagine allargata. Inutile però, la domanda è anche quella, cioè tu vieni fuori da un'esperienza molto molto vicina all'attuale amministrazione, no? All'attuale sindaco, poi a un certo punto che cosa è accaduto? Che cosa si è rotto? Diciamo che la mia storia parte da lontano, io sono stato consigliere comunale per tre consigliature nell'Ottanta. Poi ho fondato il movimento che ha portato alle elezioni di Valentino Nicastro, Stranamore, e poi ho fondato il movimento Etica per il Buon Governo, di cui ho curato da segretario cittadino tutta la strategia e l'impostazione del programma politico amministrativo. Cosa si è rotto? Cecilia Francese ha ritenuto di essere pastevole a se stessa, ha ritenuto di non attuare il programma che aveva fondamentalmente una strategia di fondo, e cioè la partecipazione attiva, le giunte aperte, la nomina di un garante della legalità indipendente, il senato cittadino, le telecamere nelle stanze del potere, per poter riavvicinare alla politica in modo partecipato i cittadini, ha fatto tutt'altro. Ha chiuso le stanze, ha evitato la partecipazione assembleare che noi avevamo avviato, e d'altro canto di tutto quello che c'è in quel programma deliberato non ha attuato nulla. Insomma, un giudizio transciante, nel senso che immagino che questi punti che hai elencato saranno anche alcuni dei punti che poi porterai all'interno del tuo programma. Assolutamente, noi continuiamo perché il successo elettorale era basato sulle aspirazioni di un popolo che non partecipa attivamente in politica, non è un popolo che ha la pretesa di occupare pacchetti precostituiti di voto, è un popolo diffuso che aveva una speranza. Noi vogliamo recuperare questa speranza e quindi ripercorrere quella parte iniziale con una manovra strutturale di bilancio e di politica locale per alimentare una politica basata su entrate extra tributarie con la valorizzazione dei beni comuni e l'uso della moneta come leva all'urbanistica edilizia per realizzare un equilibrio tra ragioni di mercato, quindi occupazione, sviluppo e quant'altro, e ragioni sociali. Perché una cosa è certa, nessuno, promettendo maghi e monti, dichiara la necessità di equilibrare costi di investimento e costi di gestione. Un'opera pubblica anche ben fatta diventa un deserto, diventa un'opera inutile se non avrai capacità anche gestionare. In questo la partecipazione attiva, il mondo delle associazioni, può valorizzare un'attività gestionale e può alimentare partecipazione concreta, fattiva, reale in questa città. fondatori dei movimenti che vanno via, assessori che lasciano negli ultimi giorni, ma addirittura c'è qualcuno che dice potrebbe accadere anche altro. Politicamente che giudizio dai di questo ultimo anno di questi ultimi otto mesi di amministrazione. La francese penso che abbia necessità di ingannare ulteriormente il popolo degli elettori, ma sta sotto gli occhi di tutti il fatto che non ha agito in questi cinque anni per strutturare quello che aveva promesso, cioè una cura del verde, una cura della città, la dignità dei luoghi. Basti pensare che nessuna opera pubblica è stata terminata e voglia di dire che sono opere affidate al privato e che la parte pubblica invece è stata realizzata. In effetti sono appalti e come appalti vanno trattati. Aveva promesso tempi certi nella realizzazione di opere pubbliche i lavori sul Tusciano che dovevano essere consegnati nel 2017-2018 sono ancora tutt'uno in corsi e indeterminati. E tutta questa gestione anche nel piano di zona è ingannevole. Basti pensare che hanno sottoscritto una convenzione di forme tra i tre comuni, tra l'altro rieplicando il voto di uno vale per 51 mila, uno vale per 13 mila, uno vale per 7 mila, 8 mila, quant'è il comune di Oliva? E questo a noi ha portato già un danno di 4 milioni e mezzo in questi ultimi 5 anni, senza alcuna rimendicazione della signora della città. E questa è una scelta, una scelta che ha valorizzato la sua posizione nelle aspettative per la scalata del potere in provincia di Salerno, ma certamente non ha dato a Battivaglia la possibilità di spesa. D'altro canto è stata molto disattenta nella gestione dei rifiuti, nella ristrutturazione con un piano industriale che completi le capacità di alta. È stata incapace di sostenere anche mediante convenzioni o con un nuovo occupazione del deficit di personale che cercano di Battivaglia. Ha ingannato continuamente tutti, sostenendo che il suo successo è dato dal sacrificio per riequilibrare i debiti. È stata smentita sia dal dirigente, sia dal proprio dirigente, sia dal proprio assessore in affermazioni fondamentali. Poteva assumere, non l'ha fatto, chiedendolo alla Commissione straordinaria. Poteva abbassare le tasse perché avrebbe dovuto abbassare i costi con una manovra strutturata. Poteva realizzare opere pubblico nei project financing e non l'ha fatto. E quindi qui il caso della divulgazione, per esempio, sulla parte di Belvedere, che poteva essere fatto con un progetto financing, poteva e non l'ha fatto riequilibrare le politiche di bilancio senza un bilancio che è stato dichiarato, basato su trospettive non vere e non concrete. Per questo Battivaglia, dal Ministero, ha avuto soccorso con una provvidenza straordinaria. Non peraltro che lei dica che abbia riequilibrato il bilancio senza questa provvidenza è falso. È falso perché se il Ministero ha bocciato le prospettive di un bilancio che non si sarebbe potuto sostenere, non avrebbe consentito al comune di uscire dalla logica del debito, per la pianificazione del debito, è evidente la caduta di stile anche di una sindaca che non dice la verità. Insomma abbiamo fatto una bella chiacchierata di 10 minuti, ne faremo altre nel corso della campagna elettorale. Nel frattempo buona campagna elettorale che si apre ufficialmente, oggi con la data. Sappiamo che ci sono questi 60 giorni da qui al voto del 3 e 4 ottobre. Grazie a Brunello Di Consolo, grazie a chi ci ha seguito. Appuntamento alle prossime dirette. Arrivederci. Ciao, arrivederci.